Il gruppo della Guardia di Finanza Ritorra Annunziata ha sequestrato nelle campagne tra i comuni di Sant'Antonio Abbate e Scafati una piantagione di cannabis occultata in una serra di vita a coltivazione di pomodori. In particolare i baschi verdi hanno individuato oltre 400 piante di cannabis dell'altezza di circa 2 metri. È stata quindi avviata un'operazione di polizia giudiziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore nel corso della quale è emerso che il responsabile della cultura, formalmente titolare di una ditta individuale operante nel settore della produzione di spezie e piante aromatiche per uso farmaceutico, aveva dichiarato trattarsi di cana passativa seminata all'inizio di giugno. A riguardo lo stesso aveva esibito una fattura di acquisto di semi di tale pianta. Tuttavia la crescita anomala delle piante, le modalità con cui venivano coltivate ed occultate e le successive analisi effettuate su un campione delle stesse hanno permesso di far emergere un livello di THC notevolmente superiore al limite consentito per la cana passativa. È stato quindi denunciato il responsabile, un 46enne di lettere, per coltivazione di sostanze stupefacenti. La coltivazione avrebbe reso circa 40 kg di mariguana, fruttando profitti leciti per circa 60.000 euro.